Benvenuti nel video dedicato alla creazione del collo generico utilizzando il configuratore presente in TTCAD L3. Questo collo può essere applicato per qualsiasi tipo di corpetto che trovate in TTCAD e può essere creato per qualsiasi modello che voi vogliate camicia, giacca, cappotto, qualsiasi. Come esempio prendo un corpetto base di tipo A clicco su crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato mi si apre questa finestrella che mi chiede vuoi usare la creazione guidata per questo nuovo progetto del sottotipo selezionato? Clicco sul sì. Mi porta all'interno del configuratore presente in TTCAD L3 la pagina di fronte è la pagina misure. Per creare il collo clicco su questa iconcina sotto c'è scritto applica collo o cappuccio. clicco, mi porta all'interno della pagina ho la possibilità di creare vari colli questo video è dedicato al collo applicato generico. Lo seleziono il programma mi crea il collo questo è metà collo questa parte è il centro dietro questo CD è la curva che poi va applicata ai giri colli del davanti e del dietro. un consiglio che vi do prima di creare il collo è quello di andare a modificare ampliare i giri colli perché il giro collo di partenza è un giro collo aderente quando si costruisce un collo generico è meglio dare un po' di agio un po' di vestibilità. Vado a cliccare su questa iconcina sotto c'è scritto modifica giro collo c'è un video dedicato a questa pagina qui vedo dei centimetri con davanti questo simbolo questo simbolo sta a indicare che i centimetri si riferiscono alla curva in questo caso la curva AB se io faccio la somma del davanti e del dietro dei centimetri e lo moltiplico per 2 posso vedere che giro collo mi viene in origine il consiglio che vi do è quello di ampliare il giro collo accorciando spalla di un centimetro abbassando centro davanti un centimetro e abbassando centro dietro di un centimetro questo suggerimento che vi faccio è per ottenere un giro collo più morbido voi potete modificare ulteriormente questi centimetri voi potete modificare queste parti come desiderate in base al collo che volete creare faccio applica mi vengono riportati i nuovi centimetri ritorno in applica collo e cappuccio ho il giro collo ampliato e il collo già modificato qui sotto misura collo e cappuccio altezza collo l'altezza collo si riferisce alla D posso modificarlo ad esempio 8 centimetri faccio applica c'è anche la possibilità di realizzare il collo intero selezionando collo intero faccio applica vedo il collo intero c'è anche la possibilità di andare a personalizzare questo collo selezionando personalizza ultimo collo cappuccio applicato mi si abilita questo pulsante cliccando mi porta all'interno della pagina collo applicato generico c'è un video dedicato a questo collo perché ho la possibilità di andare a modificare le curve gli angoli qualsiasi cosa torniamo fuori esco vado in crea progetto ho il davanti il collo e il dietro spero di esservi stata utile ai prossimi video ciao ciao